Buongiorno a tutti, sono Norma Gimondi, sono nata e cresciuta nella provincia di Bergamo, una terra che ha dato i Natali a numerosi ciclisti professionisti che nel corso della loro carriera hanno raggiunto traguardi di livello internazionale. Mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università Cattolica di Milano, terminati gli studi ho subito iniziato l'attività forense. Dal 2000 sono iscritta all'Algo degli Avvocati di Bergamo. Ho assistito in qualità di procuratrice, numerosi ciclisti e successivamente in qualità di legale ho assistito atleti, non solo ciclisti e direttori sportivi, di fronte agli organi della giustizia sportiva per quelli che erano procedimenti in materia di violazione della normativa antidoping. Analogamente ho assistito atleti e direttori sportivi di fronte alla magistratura ordinaria in procedimenti che avevano ad oggetto, anche questi, la violazione della materia antidoping. Dal 2013 sono arbitro presso l'Unione Ciclistica Internazionale e nel marzo 2015 sono divenuta anche membro della Corte d'Appello Federale, presso la quale sono stata membro supplettivo sino al novembre scorso, quando ho deciso di rassegnare le dimissioni per poter presentare la mia candidatura alla presidenza della Federazione Ciclistica Nazionale. La passione per il ciclismo mi è stata chiaramente trasmessa dal mio papà, ma nella famiglia Gimondi non abbiamo soltanto Felice Gimondi come ciclista professionista, anche il mio zio Ezio ha corso per due stagioni nella gloriosa Salvarani, dopodiché è stato il turno di Massimo, mio cugino, che anche lui ha prodato il professionismo o ha svolto la sua attività per un paio di stagioni. Io pratico il ciclismo a livello amatoriale.